Tent'anni da Palermo e studio scienze politiche qui a Bologna. Definire una fake news. Una fake news è qualcosa che fondamentalmente non si conosce, perché chi è che decide fake ancora non si è capito. Secondo me siamo noi che decidiamo se una news è fake oppure no. Esiste un metodo fondamentale che si chiama la comparazione. Vedete una notizia, ne vedete un'altra, ne vedete un'altra, ne vedete un'altra. Tra la fine scoprirete se è veramente fake oppure no. E a te mi è capitato di avere a che fare con una? Sì, ho avuto a che fare con delle fake news su Facebook, sui social, girano anche qualche volta i giornali dicono cose che secondo me sono fake. Poi dipende sempre dai punti di vista.